Sindaco dei Magistris, cos'è che manca alla sua città, che poi è anche la mia, per vincere questa sfida? Innanzitutto buongiorno, sono contento di portare anche la mia testimonianza che va in linea anche con quello che diceva Beppe poco fa, pur essendo due città diverse, abbiamo anche provenienze politiche diverse, siamo persone, io sono una persona che in otto anni si è messo in gioco e potrei dire che ce l'ha fatta nonostante i governi nazionali e regionali molte volte, cioè ce l'abbiamo fatta perché abbiamo coinvolto la gente e quindi nel rapporto tra popolo e elite mi sono trovato molto più vicino alla gente che le istituzioni centrali certe volte, l'ho coinvolta e se posso inserirmi nel filmato sulle città metropolitane porto due esempi. Io da otto anni e mezzo governo Napoli in predissesto, faccio il nono bilancio e non ho avuto mai la possibilità di inserire una voce discrezionale in base al mio programma elettorale, pago acqua, luce, gas, stipendi e basta. Eppure Napoli per chi ci è venuto anche in questi anni non è una città ricurva, non è una città depressa, ha sprigionato energia. Come l'ha sprigionata? Giovani, partecipazione, cultura, bellezza, coesione sociale, senza fare la lotta al povero, all'emarginato, al diverso, anzi la diversità è una ricchezza. Poi mi sono trovato sindaco della città metropolitana per caso, non perché eletto dal popolo ma per legge e ho fatto una battaglia giuridica per svincolare un avanzo vincolato di 400 milioni di euro e quindi sindaco di Napoli poverissimo che ha riscattato una città in base alla cultura, ai giovani, alle cose che chi viene a Napoli troverà ferite ma troverà un'energia, infatti non ci sono ansiolitici, non ci sono antidepressivi, al limite c'è stata una camomilla, bisogna ogni tanto calare l'adrenalina perché l'energia è stata talmente forte, 400 milioni. Mi sono trovato 400 milioni. Che cosa abbiamo fatto? Ho coinvolto tutte le forze politiche della città metropolitana, di questo non si è parlato a livello nazionale. Piano strategico della città metropolitana approvato da tutte le forze politiche, pur non essendoci una maggioranza politica ma un accordo istituzionale. Con tutti i 92 sindaci, e stiamo parlando della città metropolitana d'Europa più densa per abitanti chilometro quadro, 3 milioni e mezzo, il 57% della popolazione campana, primi in Europa per presenza di bambini e di giovani, con tutti i 92 comuni, non abbiamo detto vi diamo noi soldi e vi diciamo noi, come avrebbe detto la legge, come li dovete spendere, abbiamo chiesto ai sindaci perché sappiamo per un sindaco di un piccolo comune che significa non avere mai un euro e avere invece l'opportunità di averli. Abbiamo dato i soldi in base alla popolazione, in base non a figli e a figliastri, non sono manco i sindaci, magari nessuno dei 92 sindaci mi voterà mai, ma li abbiamo chiamati tutti, li abbiamo fatto presentare i progetti, abbiamo approvato l'altra volta con la conferenza dei sindaci, all'unanimità 92 sindaci e tutto il Consiglio metropolitano, 300 milioni tutte per opere che vanno, sviluppo, infrastrutture, lotta a cambiamenti climatici, ambiente, difesa del territorio e valorizzazione. Questo è chiudo, è il sud in cui credo, la questione meridionale non si sa, non arriva da Roma, da Roma non arriva gli alleati, sono arrivati dopo che abbiamo liberato Napoli con le quattro giornate dai nazisti ai fascisti nel 43, poi nel 45 sono arrivati gli alleati. La questione meridionale si fa da sud e poi si rivendicano i diritti perché diciamo basta discriminazioni. questa è l'autonomia che ci piace, non quella del regionalismo differenziale.